Verona, la splendida città di Verona, cerchiamo di farla conoscere in un modo diverso. Abbiamo iniziato con varie visite nel backstage dell'Arena, dove possono ammirare gli abiti dei vari interpreti, tra i quali anche Maria Callas, Placido Domingo, Luciano Pavarotti, grandi personaggi che hanno calcato la nostra Arena di Verona. Anche una serata con rafting sul fiume Adige, per terminare in una cena al Giardino Giusti, uno splendido giardino incastonato nel centro della città. Il teatro romano, che spesse volte viene dimenticato o poco conosciuto dalla clientela. Calle di Sottoportici, dove ci sono le trattorie tipiche, le vecchie osterie della nostra città, dove la gente può ritrovare l'area di un tempo perduto. Grazie.